No, non mi espongo, chiaramente più di tanto non mi espongo, nel senso, sono più furbo che saggio, nel senso che praticamente, sappiamo tutti benissimo, esistono gli spacciatori di paura come esistono i prudenti. Logicamente in 2012 potremmo dire, potremmo giocarsi una tripla, dire non accadrà niente, ovviamente accadrà qualcosa di interiore, di spirituale, oppure accadrà qualcosa di più rilevante, a livello anche fisico. Questo qualcosa di fisico potrebbe essere appunto quello che viene inteso come un cataclisma, come diverse, l'inversione dei polimagnetici, la tempesta solare, ci sono mille... I fenomeni naturali, insomma, certo, ciclici, dicevamo, giusto? Esatto, esatto, quindi io ovviamente rimando a chiunque una ricerca in tal senso, evitando, se possibile, ripeto, questi spacciatori di paura che abilmente, secondo me, dall'informazione ufficiale e dalla contrainformazione ne stanno propagando agli osa. Bravissimo, Cristi, anche perché noi sappiamo che il potere proprio si mutre di paura e prolifica nel caos, e vogliono proprio fare questo. Potrebbe succedere un suicidio di massa, perché poi ci sono questi fanatici, no? Esatto, e parleremo anche di questo, perché sono successe molte volte questi eventi proprio a casa, a causa di queste false interpretazioni, e come giustamente dice Cristian, ci sono queste due correnti, queste due correnti sono le più importanti, perché uno riguarda il cambiamento ciclico, quindi sono... E quello c'è sempre stato. E c'è sempre stato e ci sarà sempre. Mentre poi per il secondo si rifà quello che è appunto il salto quantico, giusto Cristian? Sì, sicuramente, questa ovviamente è una delle... è giusto anche secondo me in questi casi sentire, ovvero cercare di cogliere la verità, la verità per me e non solo per me, per fortuna, è un fatto interiore. Sì, e non assoluto soprattutto. Esatto. Comunque con Cristian poi volevo anche, perdonami se ti interrompo, ma lui è un grosso ricercatore di sci e chimiche, quindi io lo vorrei una puntata proprio a parte su questo argomento. Infatti qui in radio sono tutti i tecnici, sono molto attenti, giustamente, avevano già lanciato questa idea, dice quando parlerete delle sci e chimiche vogliamo essere tutti presenti perché siamo molto curiosi e interessati. Quindi Cristian ti abbiamo già, insomma, prenotato per il prossimo appuntamento, va bene? Ti ringrazio, penso che per me è un argomento che mi sta molto a cuore perché io amando la natura, e amando... amo essere connesso con la natura e con i cieli azzurri, ovviamente quando mi alzo alla mattina, io abito in Emilia, che è una delle zone più bersagliate, e vedo queste tele di ragno, ovviamente il mio umore ne risente parecchio, quindi non solo l'umore, quindi sono ben dietro di affrontare il problema e di provare a parlarne con qualcuno che finalmente è disposto a parlarne al di fuori di certi siti di internet. Giusto, benissimo. Cristian, grazie ancora del messaggio che ci hai mandato, che Lili ha letto, che è veramente molto molto bello e che spiega molto bene quello che è il succo e il consenso, e il senso di questo appuntamento di Dimensione X del nostro programma. Grazie ancora, buona serata e grazie di essere stato con noi, ti aspettiamo alla prossima. Ciao Cristian. Ciao. Allora, mia cara Lillina, noi siamo volate tra poco anche alla pubblicità di nuovo. Andiamo di nuovo in pubblicità. No, l'ho dimezzata. Non lo dire al direttore. No. E vabbè, siamo nell'ultima parte dove dobbiamo giocarci ancora due altri ospiti illustri per cui non vogliamo solamente perdere tempo. C'è poco tempo però. Non vogliamo perdere tempo per cui andiamo subito subito a un pezzo, la pubblicità e poi subito dopo. Possiamo anticiparlo il prossimo ospite, dai. Lo anticipiamo, dai su, ti prego. Ma dai, non fare la cattiva. Anticipiamolo così teniamo belli ancorati i nostri rispettatori. Ma forse si parlerà di Nibiru. Di? Nibiru. Cos'è Nibiru? Cos'è Nibiru? Non sai cos'è Nibiru? Non so, io sono un ignorante, ragazza mia. Sono qui per apprendere. Va bene, questo lo sveleremo tra poco. Allora, dobbiamo salutare subito gli amici che ovviamente ci stanno ascoltando in streaming. Robo Bonafina, che abbiamo già salutato in precedenza, lo risalutiamo. E Stefano Tagliabue. Grazie. E vogliamo continuare, oltre che Stefano, con il mio gruppo delle streghette Pettigolone, Annena Carga, Marina Montanaro, no vabbè, è un gruppo nostro così e stiamo tutte molto venute. Una strega Pettigola. Un saluto Lidia, Tuglia, Serena e dovrei dire... Ecco, se te le lecchi tutte va a finire... Le piante me le scrivo, io voglio bene. Perché può succedere che... E dobbiamo salutare anche Loredana Gilardi. Ah, ma se dimentichi qualcuna, se le suonano. E quindi non le evencare. Non le evencare perché se rischi di dimenticarne qualcuna poi sono guai. Allora, tutte, globalmente. Loredana ha telefonato la saluta. Ecco, Loredana sì. 23.32 minuti, ultima tranche, ultima mezz'ora con Dimensione X del nostro primo appuntamento qui su Rete 8 insieme a Lilia Store e naturalmente in collaborazione con il Centro Studi che si trova a Lecce in piazza Ariosto, telefono 08-323-16863. Diamo un benvenuto al nostro penultimo ospite di questa sera. Lo vogliamo subito presentare, anzi lo fai tu perché ha sicuramente una didascalia importante da essere menzionata. Beh sì, è Lucio De Plano, libero ricercatore, studioso di antiche civiltà e di analisi storiche su immagini spaziali e archeologiche. Ha scritto molti articoli tra cui Acqua e vita su Marte, un articolo che ha preannunciato un po' quello che sarebbe accaduto. Lucio ci sei? Sì, ci sono. Buona serata Lucio. Allora, Lucio viene definito anche Warp. Perché Warp? Eh, il Warp è il Varco. Poi sentendo le domande di questa sera, la mente quantica, il salto, le dimensioni, l'evoluzione. Cioè noi siamo esseri umani. Umanamente abbiamo fatto un sacco di danni. Il giorno che torneremo ad essere, probabilmente, ci sposteremo senza muoverci in tutto quello che esiste perché se ci siamo avrà anche un senso tutto quello che esiste. Quindi dovremmo viaggiare, spostarci, visitare, incontrare qualcosa che ci aspetta. e magari che abbia già incontrato tanto tempo fa. Sono i primi visitatori in altri mondi. Certo. Questa è una bella condizione ips, diciamo così. E Warp, il 2012 cosa accadrà? Ah, ci stai ascoltando il streaming. Questo è un problema, scusami. Lucio, non dovresti ascoltarci tramite lo streaming, ma tramite il telefono se no è un problema. Mi sento molto bassi. Eh, lo so, è un problema che ci risolveremo nelle prossime puntate. Innanzitutto, sono un grande appassionato di antiche civiltà. E quindi, per entrare in un'antica civiltà, facciamo una cosa. Torniamoci le scarpe, riappropriamosi di quel rispetto e di quella voglia di conoscere qualcosa che è stato prima di noi, ma che ci sta insegnando molto adesso. Entriamo nel mondo dei Maya. Noi ci siamo. No, ci siamo. No, veramente ci aspettavamo un seguito, perché siamo entrate anche noi mentalmente in questo che può essere il mondo dei Maya. Volevo aggiungere. Allora, quando i conquistadores arrivarono in questi luoghi, pensarono di trovarsi o in insediamenti addirittura di romani giunti nelle Americhe, se non addirittura in un luogo costruito da un'antica tribù di Israele scomparsa nel tempo. Perché allo stesso tempo i Maya, vedendo queste persone possenti, c'è un termine proprio, è un grido che descrive le pance di ferro. Questi uomini a cavallo, che sembravano mostri, che loro pensavano proprio fusi con l'animale. Allora, in un luogo, in un mondo che praticamente può essere classificato come un enorme monumento in relazione del tempo, e in un luogo dove praticamente erano, cioè questa civiltà viveva l'assoluto, cioè l'eternità, si considerava parte dell'eternità. Non aveva un passato, non vedeva... Non c'era un passato presente o un futuro, ma un continuo. Di calcolare il tempo in una maniera talmente incredibile e talmente ossessiva, proprio perché era...